Credo che anche questo premio che il professore ha voluto dedicare alla moglie, proprio per il suo carattere di solidarietà e soprattutto solidarietà verso chi ha più bisogno, chi è più necessitato, qualifica. Intanto il pensiero di poter dedicare alla moglie un premio che abbia una tale significanza è il significato stesso del premio, credo che ne fanno una cosa veramente unica, per cui sono veramente contento di poter partecipare a questa iniziativa che mi sembra significativa per tutti.